Amianto sotto i pavimenti della caserma della Polizia Municipale a Chieti. Il personale va al più presto trasferito durante i lavori di bonifica, dicono i sindacati, che puntano il dito contro l'amministrazione comunale dopo la scoperta del pericoloso materiale nella sede del comando di Via Nicolini. I sindacalisti affermano che il Comune sapeva dal 2021 della problematica, chiedono di spostare la sede sia per l'incolumità di chi vi lavora sia per gli utenti. Marco Angelucci, segretario Will, FPL, Chieti. Il problema noi lo abbiamo segnalato qualche settimana fa facendo un'assemblea dei lavoratori della Polizia Locale perché a distanza di quasi quattro anni abbiamo avuto contezza della presenza di amianto all'interno del comando proprio della Polizia Locale. Cosa che il Comune di Chieti aveva già della documentazione risalente al 2021. Noi chiediamo l'interdizione per la sicurezza dei lavoratori e di tutta l'utenza che usufruisce di quel posto perché lì è in pericolo la sicurezza di tutti perché non è pensabile fare i lavori di ristrutturazione con il personale all'interno del comando e perché oltre ai dipendenti del Comune quali i componenti della Polizia Municipale all'interno del comando girano anche cittadini e utenti di ogni tipo e di ogni età. E si pensa già a un prossimo passo. Prossimo passo se si rende necessario una denuncia alla procura e denuncia segnalazione e continueremo a manifestare il nostro dissenso per questa situazione paradossale.